Eliana Michelazzo Anche Eliana Michelazzo ha preso il Covid-19 Pare che Eliana Michelazzo abbia preso il Covid-19 nei locali sardi, nei locali della Sardegna e particolarmente nel locale di Fravio Briatore ora è ricoverata in ospedale, è malconcia e dice che intende denunciare tutti, denuncia tutti, denuncia forse vuole denunciare anche Fravio Briatore perché è malconcia e dice che ha il sangue in gola è tanto bella, sapete, questa Eliana Michelazzo io vedo qua, vedo qua sulla pagina di un giornale che lei è tanto bella io non so nulla di Eliana Michelazzo so soltanto che ne parla la stampa ne parla la stampa e se la stampa parla di qualcuno e ci mette la foto vuol dire che questo qualcuno è una persona importante a me dispiace di non sapere nulla di Eliana Michelazzo e di sapere della sua esistenza in questa circostanza e la circostanza lega Eliana Michelazzo a Fravio Briatore ma Eliana Michelazzo se ne frega del potere di Fravio Briatore lei, Eliana Michelazzo, dice che denuncia tutti forse denuncia anche Fravio Briatore perché non sono state adottate in quei locali lì non sono state adottate le misure precauzionali ecco cari amici io ora che ho 80 anni e siamo alla fine di agosto dell'anno 2020 vengo a sapere che a questo mondo esiste Eliana Michelazzo e che anche Eliana Michelazzo se la deve vedere col Covid-19 Eliana Michelazzo è una bella donna bellissima donna che frequentava le discoteche frequentava le discoteche e ora anche lei si trova nelle stesse condizioni di Fravio Briatore con la differenza però che Fravio Briatore non può denunciare Eliana Michelazzo invece sembra che Eliana Michelazzo voglia denunciare Fravio Briatore perché Eliana Michelazzo dice che lei adesso non guarda in faccia nessuno parte con le denunce, capito? va bene cari amici io sono tanto contento di avere conosciuto Eliana Michelazzo perché è molto bella molto bella frequentava le discoteche della Sardegna ed ora c'è il coronavirus io invece le discoteche non le ho mai frequentate cari amici non le ho mai frequentate mi sono sempre limitato a fare i professori di filosofia e storia nei licei classici scientifici i presidi di volo sempre nei licei classici scientifici poi ho scritto tante opere e questa è la mia ultima opera per cui cari amici io vi dico che a tutti voi tanti cari saluti dalla stilpe del serpente e tanti auguri a Eliana Michelazzo che sembra che voglia denunciare Fravio Briatore ok ok